Io vorrei, sono lieto di poter dire due parole in occasione di questa presentazione, non per aggiungere cose agli stupendi interventi che mi hanno preceduto, quello di Paolo, quello di Tentori, ma a tutti, quello di Semerani, ma a tutti. Vorrei però fare memoria di tre cose che si sposano bene, danno forse un... concretizzano nelle parole di Canella alcune notazioni che sono state fatte qui. Quindi, quando erano gli anni 95, 96, 97, lavoravamo insieme a lungo qui a Roma con un gruppo molto vasto, eccetera, e avevamo l'onore di avere Guido per un anno e mezzo, che andava avanti e dietro da Milano a Roma, e quindi ci faceva compagnia, e ha dato una tonalità importante a quel tempo, io credo per tutti noi che abbiamo partecipato a quegli eventi, decidemmo di fare una mostra, una piccola mostra in facoltà, in onore di Guido. E gli portò dei disegni bellissimi, preparammo una saletta, devo dire più piena di quanto non sia questa oggi, anche se era più piccola. e gli era contento, direi quasi commosso di questa attenzione. Nel rispondere, dopo, diciamo, le introduzioni nostre, eccetera, eccetera, egli disse, ma io sono sorpreso, perché mi trovo qui quasi ad essere protagonista, mentre invece io sono un deutero agonista. il deutero agonista è una tipica figura del dramma, no? Oreste Pilade, eccetera. Noi ne parlammo, ecco, un'altra notazione, una delle tre. La cosa importante di Guido, che io ho trovato in pochissime persone, ma per mia colpa, perché non sono una persona che frequenta molto, neanche coloro che penso che siano maestri miei, Guido aveva una qualità che secondo me è sublime, soprattutto perché si perde ormai, si è persa. Si esprimeva non soltanto attraverso l'architettura, non soltanto attraverso l'insegnamento, ma aveva una conversazione da maestro, che non si poneva termine né temporale né di latitudine di interessi. E allora in questa breve conversazione che avevamo a cena qualcosa, allora cercavamo di dire, deutero agonista che cosa intendevi? Alla fine io proposi, ma secondo me tu volevi intendere Marcuzio rispetto a Romeo. E tutto sommato questa cosa gli piacque. E se ne parlò un po'. E Marcuzio è quel personaggio che è un pessimista drammatico, però che ama così tanto il centro del dramma, che si sacrifica realmente lui, non Romeo, almeno all'inizio. Ed è un personaggio di cui Shakespeare diceva «Devo far morire Marcuzio, altrimenti Marcuzio uccide il mio dramma». E questo suo sentirsi e dichiararsi deutero agonista secondo me va benissimo con l'idea di impurità, senza la quale la purità. Va benissimo anche biograficamente, perché Aldo Rossi e Guido Canella, questi due gemelli opposti. Senza l'uno l'altro avrebbe meno senso, se forse Paolo potrebbe, che li ha conosciuti tutti e due nel momento più creativo. Una seconda notazione sua, credo proprio in quelle sere, attorno a questa piccola mostra che facemmo, e gli disse «Come progetto io?». Forse noi avevamo chiesto, avevamo fatto delle ipotesi, quando gli architetti si vengono a fare i critici, «Ma tu, ma il segno, eccetera». Ma il segno del disegno e anche del linguaggio, io adoperavo queste parole, è un impulso interiore, quasi senza studio, quasi fosse genetico. «Ma io, quando progetto, ogni segno che faccio, sono pronto a cambiarlo, se penso che quel segno possa anche appartenere a qualcun altro». quindi il severissimo obbligo di esplorare sempre e comunque tutto lo spazio, e soltanto lo spazio lasciato libero dalle consuetudini che scavano degli impluvi in cui la nostra volontà di forma, di progetto, comunque confluisce. e questa sua dichiarata esplicita «Voglio esplorare, devo esplorare ciò che non è attribuibile ad altri per consuetudine». Questo si sposi, io credo, con l'eretico permanente di Nicolini? Può darsi. Forse qualcosa di più. Sono assolutamente d'accordo con Paolo e gli ha avuto due fasi. Io l'ho conosciuto personalmente bene nell'ultima fase. Quando anche, questo forse è lo sbaglio, anche il suo linguaggio si... Egli stesso diceva «Invecchiando, ho eliminato una serie di segni e ho ridotto moltissimo». Ogni volta che progetto mi accorgo di ridurre ancora di più. Infatti gli ultimi progetti, non parlo quindi dell'88, che invece sono il fulgore della sua... Sono a suo modo composti spogliati, diciamo spogliati. L'ultima notazione. Questa generazione, nata nel 31, ma compresa anche quella del decennio precedente, voi siete patrimonio dell'architettura italiana. Già il fatto che di giovani, qui ce ne siano pochi, io parlo di Roma, perché Milano la conosco meno, la scuola di Milano, sa significare che io che ancora frequento la mia vecchia facoltà, occorre trovare la maniera di fare in modo che questi patrimoni, di cui alcuni di voi sicuramente sono autori, siano presenti, siano presenti, siano presenti. Io che ho un po' più tempo di prima, vado molto a mostre, non soltanto in Italia, dove mi capita di girare, eccetera. E vedo con grande commozione che ancora i pittori, magari davanti a un quadro di un telebrista, di un cavaraggesco, dipingono pure, copiano, cioè la presenza del patrimonio. Mi sembra che stia sfumando. Sicuramente ciascuno dei maestri, di cui qui ne abbiamo molti, per quanti pochi siamo, attorno a loro costituisce un gruppo, un gruppo quasi sacerdotale. Ma il problema è come far rirrompere la presenza di questo patrimonio che è così vicino, così prossimo, così vivo, presente, e che è sparito. Sicuramente io sono uno dei maggiori colpevoli, essendo stato preside per sei anni nella facoltà di Roma. Però credo che sia un problema più vasto, collettivo, il problema degli storici. Sono felice di aver sentito che Paolo sta facendo una storia di tipo diverso. Però questo problema esiste. grazie. Ha ragione Lucio Barbera a lamentare questa distanza dei giovani che poi riguarda un po' tutto le orme di chi ci ha preceduto. D'altra parte oggi c'era anche lo sciopero degli autobus. Chiedo a Francesco Cellini di venire al tavolo. Grazie. Grazie.